L'impianto di capelli artificiali nido è una tecnica efficace, veloce e non invasiva per tutti i tipi di calvizie maschili e femminili. I capelli che qui vedete imbustati sono inseriti uno alla volta direttamente nel cuoio capelluto con l'implanter. Si effettua in ambulatorio, con una piccola anestesia locale e non lascia cicatrici. Dopo l'impianto l'effetto estetico è immediato, ci si pettina e si può tornare subito alla vita sociale senza che nessuno se ne accorgia perché i capelli artificiali nido hanno lo stesso colore, spessore, consistenza e lucentezza dei capelli naturali. Si utilizza anche per correggere le imperfezioni estetiche degli autotrapianti. Dal 1986 ad oggi ho eseguito più di 20.000 impianti diventando il maggiore esperto europeo di implantologia di capelli artificiali nido. Ci sono tanti uomini e donne di qualsiasi estrazione sociale che grazie all'impianto di capelli artificiali che conducono ora in modo più sereno e appagante la vita normale di tutti i giorni. Fra queste persone ci sono molti personaggi famosi del mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport e dell'industria. È una tecnica davvero innovativa che dà ottimi risultati. Vi chiederete allora come mai è così poco conosciuta? Semplice perché l'effetto è così naturale che quando un paziente mette i capelli artificiali nido nessuno sospetta mai di nulla e chi ha fatto l'impianto se ne guarda bene dal dirlo in giro. A dir la verità c'è qualcuno che ha svelato di aver fatto l'impianto con me. È un personaggio famoso, un cantante di grande successo. Fiorentino, schietto, acclamatissimo dai suoi fan, anche per la sua franchezza. Marco Masini. Un cielo d'agosto che fa da cornice a una stella che va. Un sole nascosto che nasce da dentro e ti senti al confine della tua libertà. Con l'impianto di capelli artificiali nido per Marco perdere i capelli non è più un problema. Grazie a tutti.